Sono Allen Huff E io sono Tonto Tonto Allen Jones Andiamo a caccia di una macchina lanciapalle Compriamo l'asta interi depositi In giro per l'America Sono rimasti castrato La stracinesca va su Che cacata In pochi secondi facciamo una stima e compriamo Sono castrato come una scatoletta di tonno È incredibile Quello che compriamo Lo ricompriamo Due dollari e mi fai felice E più la mercia è interessante Più sale il prezzo San Diego Prima città della California Questo posto è San Diego Il clima caldo di San Diego L'ha resa una delle città più San Diego degli Stati Uniti Tanta gente Tante, 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 tante cose nei lotti Saiton, siamo praticamente San Diego Claro che sì Potremmo trovare dei tesori nascosti Claro che sì Conosci qualche altra parola in spagnolo? Claro che sì Qualche altra parola Sedia da campeggio Qualche altra parola San Diego Il banditore di solito conosce tutti gli abitui Quindi se lo facciamo parlare Può rivelarci informazioni importanti sui nostri avversari Comincia a cantare Sì, mi ricordo Dobbiamo tenerlo d'occhio Ci siamo scontrati altre volte con René E quando vuole un lotto Paga qualsiasi cifra Quindi con tre lotti all'asta oggi Dovremmo essere Allora gente Siete pronti a iniziare? Non entrate nei lotti Non toccate Non spulciate Non apricate Non sputrate E non rovicate La merda Bene Una bella bici nuova Almeno 100 dollari Il generatore sembra nuovo È un frigo per il vino VINO! È un buon segno Davvero buono Generatori e cose come il frigo per il vino Sono oggetti di lusso Questo ci fa pensare che ci siano altri oggetti costosi Bene gente L'asta parte da 4 dollari 4 dollari Siamo a 400 Chi offre di più? 400 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 4,00 Chi offre di più? Siamo a 4,25 Siamo a 600 6,25 4,50 Adesso andiamo per 400 Chi offre di più? 6,50 Raggiunti 6,400 Siamo a 400 Chi offre di più? Sì 7,25 Benissimo E ora 400 Chi offre di più? Qualcuno offre 400 Chi offre di più? 7,50 Signori 750 Nessun'altra offerta? 400 1,2,1,2,3 Aggiudicato Che cacata C'è molta roba che mi piace È un frigo per il vino È un frigo per il vino È una custodia della Bosch È un frigo per il vino È una custodia della Bosch Frigo Custodia Frigo Custodia È un frigo per il vino È un frigo Della Bosch Guarda amico Guarda quel soppalco Sembrano gabbie per animali Non sono economiche Forse c'è qualcosa di grande La infame Amo questo lotto La cosa La cosa che ci piace di più di questo lotto È il soppalco Perché sappiamo Che la gente tende a nasconderci I vecchi cestini Per la raccolta della frutta Quindi Siamo disposti a spendere un po' di più Per questo lotto Sfortunatamente René paga sempre molto Questo è un bello Almeno 5 Dollari Si può fare Bene gente 250 qui Benissimo Qualcuno offre di più? 500 600 Siamo a 600 550 600 Siamo a 600 550 600 Siamo a 600 550 Voglio sentire 400 Qualcuno dice 900 900 900 Dollari Siamo a 900 900 e 1 900 e 2 900 E 2 1 900 e 2 900 E 2 900 E 3 Ha giudicato Avete il lucchetto? Sono troppo leggere Troppo leggere Questo è delle olimpiadi di Los Angeles del 1900 800 84 Che cacata Che cacata Oh questi sono soldi Cos'hai trovato? Una sedia da campeggio Oh Cos'hai trovato? Sedia da campeggio Sì Sedia da campeggio Sì Sedia da campeggio Sì Oh questi sono soldi Cos'hai trovato? Sono secchi da campeggio Che c'è? È una pompa Pum da campeggio Quindi uno arriva con questo e bam Castrato Come una scatoletta di tonno Mi piace Ci facciamo facilmente Dollari Oh Avete speso un mucchio di soldi a San Diego È avanzato qualcosa È avanzato qualcosa René può anche fare delle battute Ma sa che abbiamo preso due bei lotti Speriamo di ridere per ultimi Speriamo di ridere per ultimi Speriamo di ridere per ultimi